Buonasera, grazie per essere qui alla presentazione di Malefica, trasformare la rabbia femminile. Questo libro parla della trasformazione della rabbia femminile attraverso una storia. Io sono un editor, mi occupo da tantissimi anni di lavoro editoriale e negli ultimi 5-6 anni nello specifico di lavoro editoriale in questo settore particolare. Ho quindi incontrato anche per il lavoro collaterale, quindi organizzazione di eventi o relazioni, ho incontrato tantissimi operatori del settore e in quanto donna sono sempre stata particolarmente interessata a tutti i discorsi sull'energia femminile, per esempio al lavoro di Ryan Nesler, di Maria Gimbutas, di Clarissa Pinkola e stessa, autrici che probabilmente conoscete bene. E avevo raccolto tanto materiale. Io tra l'altro sono laureata in filosofia politica e sono sempre stata interessata anche all'aspetto sociale e politico del discorso sulle donne, per cui ho fatto anche un altro tipo di letture rispetto a quel settore. Avevo raccolto del materiale ma non sapevo come parlarne, come quando si ha proprio un grande bisogno di parlare di qualcosa, però non si riesce a trovare il modo per farlo passare. Finché più o meno un anno fa ho visto un film, per caso, perché in realtà era un colossal americano e io l'avevo abbastanza snobbato, grande attrice, vestita in un modo che sembrava mirare più a non tanto a uno scuotimento interiore quanto proprio a colpire basta l'occhio. In realtà mio marito e mia figlia l'hanno visto per caso questo film che è Maleficent e mentre loro vedevano questo film io stavo lì vicino, ho cominciato a sentire delle frasi, vedere delle immagini e mi si è proprio attivato qualcosa, per cui mi ha colpito talmente tanto che nel corso del tempo ho capito che poteva essere quella la chiave per parlare di quello di cui volevo parlare. Quindi questo è un libro che parla di questo film, ma che parla di quello che questo film è riuscito a intercettare di tutti noi. La sceneggiatrice di questo film, Linda Wolverton, è considerata una sceneggiatrice femminista perché è stata autrice di scrittore e sceneggiatura di Mulan, della Bella e la Bestia, di Alice in Wonderland di Tim Burton, quindi tutti personaggi femminili molto forti e io, dato che qui queste cose si possono dire, ho scoperto a posteriori che ha la mia stessa energia angelica, secondo appunto le idee degli angeli di Aziele di Igor Sibaldi, perché è nata il 19 dicembre e io il 20, ed è un'energia angelica che ha bisogno di andare oltre quello che c'è già e come vedremo nel corso della presentazione questo è molto collegato al tema, a quello che secondo me questo film vuole dire. Perché questo film secondo me è importante? Perché è una rinarrazione, noi abbiamo sempre considerato, io all'inizio del libro parlo di come Mary Louise von Franz, la psichiatra junghiana parla della storia tradizionale della Bella addormentata nel bosco in un libro fondamentale che è il Femminile nella fiaba, lei la racconta così, un re e una regina finalmente hanno una figlia e felici per l'arrivo di questa bambina organizzano una grande celebrazione, così felici invitano tutte le fate, ma le fate sono 13 nel regno e loro hanno solo 12 piatti, una di queste non può essere invitata e questa fata si arrabbia talmente tanto che arriva alla celebrazione e scaglia una maledizione sulla bambina, la condanna a morte. Ora, io a questo punto delle presentazioni collego questa vicenda alle costruzioni familiari di Bert Hellinger, Bert Hellinger che è appunto l'ideatore ma più che altro il portatore di questa tecnica che è una tecnica di teatralizzazione dei drammi familiari, dice che noi non dobbiamo pensare quando riceviamo un torto di non rispondere in alcun modo, è giusto che noi rispondiamo perché altrimenti ci portiamo dentro il trauma e non lo elaboriamo, ma non dobbiamo rispondere in una maniera sproporzionata, cioè con una violenza maggiore rispetto al torto subito, il modo in cui la fata reagisce è del tutto superiore rispetto a quello che ha subito, cioè semplicemente non è stata invitata alla festa, ma si arrabbia talmente tanto che decide di condannare a morte una bambina innocente, è qualcosa che non quadra, noi ci siamo tenuti per buona questa spiegazione per secoli e secoli e tra l'altro la bella addormentata nel bosco è una storia che è stata trasmessa nelle varie reazioni con pochissime differenze, quindi è rimasta praticamente imbutata e ci siamo tenuti per buona questa spiegazione. Io credo che quello che è successo in noi negli ultimi anni a livello sociale, politico ma anche a livello individuale, il fatto che tanti di noi si sono aperti e hanno cercato di scoprire cosa c'era dentro di loro, questo ha permesso un'apertura, cioè questa storia che noi ci eravamo tenuti per buona, in realtà si è rivelata nella sua interezza, è come se si fosse aperto uno spazio e in questo spazio Linda Wolverton è riuscita a inserire la sua invenzione letteraria, cioè qualcosa che appunto è inventato, ma che ci permette di capire perché la fata cattiva ha agito nel modo in cui ha agito e questo meccanismo è molto simile a quello delle costellazioni familiari, perché nelle costellazioni familiari attraverso appunto questa tecnica in cui noi ci connettiamo al nostro albero genealogico, abbiamo la possibilità di rivelare una verità sulla nostra famiglia, sulle vicende precedenti che ci permette poi di andare avanti nella storia, come vedremo. La verità che Linda Wolverton racconta è questa, Stefano e Malefica, cioè il re e questa fata cattiva in realtà si conoscevano già e si conoscevano molto bene, perché facevano parte di due regni vicini ma distanti, il regno degli uomini, il regno ordinario e il regno straordinario abitato da creature misteriose dotate di poteri magici, il regno degli uomini era vittima della sete di potere e di denaro, nel regno invece magico si viveva in totale tranquillità e armonia e in qualche modo questi due regni sono il mondo materiale e il mondo spirituale. Le persone del regno ordinario non riescono ad andare nel regno magico e ne hanno paura e invece Stefano ci riesce, perché Stefano non ha attaccamenti, è orfano, non possiede niente e quindi può passare dall'altra parte e lui effettivamente passa attraverso dei veri e propri guardiani della soglia ed è un nuovo aladino, un diamante allo stato grezzo che riesce a passare, in un certo modo riesce a farsi invisibile perché non ha quel tipo di attaccamenti. Lui e Malefica diventano amici, finché però Stefano comincia a essere riassorbito dal mondo ordinario e dalla sete di potere e si trova a un certo punto a scegliere o rimane fedele a Malefica, da cui comunque si è allontanato nel corso del tempo, oppure usa Malefica per esaudire il suo più grande desiderio, cioè diventare re e vivere al castello e lui sceglie questa seconda cosa, quindi va nel mondo di Malefica di notte, la illude e non la uccide, però le taglia le ali e quindi le toglie il potere sostanzialmente, porta queste ali al re e il re gli dà in sposa la figlia, quindi Stefano diventa il nuovo re. Questo cambia tutto, perché Malefica a questo punto cambia completamente, Malefica era una creatura straordinaria che era nata a Regina, quando scopre di essere stata tradita, di non avere più le ali, cambia totalmente, diventa completamente arrabbiata, la sua potenza guaritrice diventa una potenza distruttiva. La scena in cui Malefica scopre di non avere più le ali è una scena di un dolore straziante. Guardando quella scena le donne non solo ricordano i tradimenti che hanno subito a livello biografico nella loro vita attuale, ma ricordano tutto quello che le loro antenate hanno subito nel corso dei secoli, da quel modo di pensare che di solito viene chiamato patriarcato, cioè quella forma mentis che ha portato l'umanità a mettere da parte e a desacralizzare il potere femminile. Ma questa scena riattiva anche il corpo di dolore maschile, come vedremo successivamente, cioè non riguarda solo le donne, riguarda anche gli uomini, perché gli uomini non si portano addosso solo il senso di colpa per quello che hanno fatto nei confronti delle donne nella loro vita biografica, nella loro biografia appunto in questa vita, ma si portano addosso il dolore che hanno provocato anche i loro antenati ed è un senso di colpa che oggi brucia perché oggi può essere superato, ma può essere superato solo attraverso una cooperazione ovviamente tra i due sessi. È una scena importante che poi giustifica la maledizione, non è che la giustifica nel senso che è giusto che Malefica abbia maledetto Aurora ovviamente, però ci fa capire che la maledizione non era causata solo da un mancato invito, ma era causata da qualcosa di molto più grande. Quando Malefica vede che è nata questa bambina, si vendica su di lei e questa vendetta è probabilmente la cosa più importante del film. Quando io ho scritto il libro pensavo di star scrivendo un libro su maschile e femminile e adesso vi ho parlato di questo, di queste dinamiche, in realtà e qui veniamo al colpo di scena, io credo che questo sia un film sul rapporto tra le donne. Perché Malefica si accanesce su Aurora? Malefica pensa che così può guadagnarci qualcosa, cioè può avere la sua vendetta, può essere soddisfatta, in realtà non è soddisfatta per niente perché non ci guadagna assolutamente niente, ma quello di cui lei non si rende conto è che maledicendo Aurora sta compiendo quello che è stato compiuto su di lei, cioè lei stessa compie un'azione patriarcale e perché fa questo? Perché diventa strega cattiva? Dopo lo vedremo. Malefica in questo momento, nel momento in cui scaglia la maledizione è la strega cattiva di Aurora, quello che succede e che può succedere perché ci è stato rivelato quel pezzo mancante, quella parte che era stata rimossa, cioè il taglio delle ali, quello che succede è che Malefica non si allontana da Aurora, continua a seguirla, la segue, la guida, perché Aurora nel frattempo è stata portata via ed è stata data a tre fate che in realtà rappresentano un potere spirituale che però è totalmente asservito al potere ordinario, cioè le fate sono dipendenti sostanzialmente del re e non sono minimamente in grado di crescere questa bambina, malefica è con lei che realmente la cresce e la cresce di nascosto, ma quello di cui si rende conto grazie soprattutto ad Aurora è che lei nel corso del tempo sente l'emersione di un sentimento, lei comincia a guidare Aurora e la sua non è solo una guida quotidiana nel mondo normale, non insegna solo delle cose appunto ordinarie, ma compie su di lei un vero e proprio apprendistato magico, cioè lei va da Aurora di notte, la raccoglie dal letto in una posizione che è molto simile per esempio a quella dei viaggi fuori dal corpo, la accompagna nella brughiera, cioè nel mondo invisibile, la fa entrare in contatto con gli esseri magici e poi la riaccompagna la mattina a letto nella stessa posizione, quindi un vero e proprio apprendistato, simile per esempio all'apprendistato che compiono Taisha Belar e Florinda Donnergrau, cioè le cosiddette streghe di Castaneda e che raccontano nei loro libri, che questo apprendistato strano e magico che le streghe della generazione precedente facevano su queste streghe della generazione successiva. Lei fa questo e nel fare questo lo fa quasi controvoglia, semplicemente perché le viene naturale, sente l'emersione di un sentimento e poi quello che viene rivelato è che lei non è la strega cattiva di Aurora, ma è la fata madrina. Lei stessa pensava di essere appunto la madrigna, la strega cattiva, in realtà si rende conto che probabilmente grazie anche al ruolo dello spettatore che ha visto cosa è successo realmente a Malefica, Malefica può proseguire con la storia, cioè nel vedere il film cambia il nostro inconscio collettivo e questa è la portata secondo me rivoluzionaria di Maleficent. Una volta che noi abbiamo visto quello che è successo prima, cioè il taglio delle ali, abbiamo sofferto insieme a Malefica e abbiamo sentito la sua rabbia nello scagliare la maledizione, noi l'abbiamo permesso di trasformarla, di trasformarla in questo sentimento di amore, che è un sentimento di amore materno nel senso che è un sentimento di amore femminile e di amore della donna nei confronti della donna, che è un cambiamento, un rivolgimento che noi oggi possiamo vivere. Noi viviamo in una società appunto in cui ci troviamo spessissimo nella situazione di Eva contro Eva, le donne contro le donne e questo accade perché il nostro archetipo di riferimento spesso è quello della strega cattiva, riuscire a trasformare la strega cattiva in fata madrina è un cambiamento importantissimo e questo si ricollega alle dinamiche delle costellazioni familiari. C'è un altro film, Cenerentola, sempre di Disney, a marzo è uscita la nuova versione del film, che non cambia tantissimo rispetto alla precedente, c'è qualche piccolo cambiamento, ma c'è una cosa fondamentale alla fine, cioè la matrigna anche in questo caso dice a Cenerentola perché le ha impedito a tutti i costi di sposarsi, perché? Perché il suo sogno d'amore era stato infranto, quindi lei voleva impedire anche a Cenerentola di realizzare il proprio, è una dinamica di rabbia e di vendetta in cui le donne sono ancora invischiate oggi, ma da cui si possono liberare, naturalmente le donne hanno questa spinta anziché sciogliere la rabbia causata da ciò che è stato fatto loro, la spinta è quella di rivoltarla e farla ricadere sulle donne della generazione successiva, come impedire anche a loro di avere quello che loro stesse non hanno potuto avere, ovviamente questo fa tantissimi danni, fare questo spostamento, trasformare la strega cattiva in fata madrina può veramente cambiare tanto le cose, perché? Perché prima di tutto le donne giovani per esempio possono smettere di avere delle nemiche nelle donne più grandi e poi perché oltre a non avere più le nemiche possono avere delle antenate vere e proprie. Io faccio un lavoro pratico collegato a questo libro, che in realtà è venuto dopo il libro, mentre scrivo il libro non pensavo che l'avrei fatto ed è un lavoro che si ispira ovviamente alle costellazioni familiari. Quello che faccio è abbastanza semplice da un certo punto di vista, cioè cerco di collegare le donne che partecipano a questo lavoro pratico alla madre, alla propria madre e alla propria nonna, per ricongiungersi appunto alle due antenate più vicine. Non è semplice, perché spessissimo ci sono dei rapporti complicati, quello che io cerco di fare è di andare oltre l'aspetto biografico, cioè al di là di tutte le incomprensioni di tutto quello che può essere successo tra le donne. La cosa importante è che spesso nelle constellazioni familiari c'è il bisogno anche di risolvere dei traumi, anche di capire che cosa è successo realmente. Probabilmente le donne possono andare oltre rispetto a questo tipo di lavoro, cioè alla riconnessione con le proprie antenate, possono prescindere da questo aspetto, cioè se la donna e la madre e la nonna si rendono conto che la loro unione più importante di qualunque cosa possa essere successa a livello familiare e a livello appunto biografico, accade un progressivo scioglimento di tutto quello che c'è tra di loro e quindi questa progressiva riconciliazione. Secondo l'idea che una strega cattiva è una strega cattiva perché è una strega sofferente, quindi se noi riusciamo a sciogliere questa sofferenza, la strega cattiva diventa effettivamente strega madrina, cioè smette di accanirsi sulla donna della generazione successiva e comincia ad aiutarla e questo è quello che succede a Malefica, che quindi si rende conto di essere lei stessa appunto la fata madrina di Aurora e compie questo capovolgimento finché l'ultima scena appunto, la grande novità di Maleficent rispetto alla storia originale della bella addormentata nel bosco è che Aurora viene svegliata dal bacio del vero amore, ma il bacio del vero amore che riceve non è quello del principe, è quello di Malefica, cioè viene sigillato questo mutamento a livello collettivo, cioè il fatto che la strega cattiva è riuscita a trasformarsi in fata madrina ed è grazie a questo vero amore che Aurora si può svegliare, cioè grazie al fatto di non essere più maledetta ma di essere benedetta da questa sua guida che lei può svegliarsi e può realizzarsi realmente e quindi alla fine del film Aurora è regina dei due mondi, è umana ma riesce a vivere, a governare anche il mondo spirituale senza volerlo sopraffare, senza volerlo realmente controllare, ma riesce a vivere perché ha sviluppato quella parte di se stessa e a quel punto emerge qualcos'altro su cui si deve lavorare, ovvero una volta che Stefano, come succede nelle costellazioni familiari e comunque come dicono tanti lavori che si potrebbero riassumere nel lasciare andare, in Maleficent Stefano non cambia, rispetto a Malefica, Malefica compie tutto un suo percorso interiore molto forte e molto importante, Stefano invece rimane irretito nel trauma, cioè passa tutta la vita in una stanza a guardare le ali di Malefica e a parlare con le ali, rimane ancorato al passato e allo stesso tempo guarda al futuro, cioè aspetta il momento in cui riuscirà a distruggere Malefica e alla fine è talmente ancorato a quell'idea del mondo che ormai alla fine del film non esiste più, che lui preferisce morire piuttosto che cambiare e Stefano non può essere salvato perché non si vuole salvare, è un modello di maschile che probabilmente oggi deve morire, c'è un altro modello di maschile che è quello di Filippo, che però in realtà non è ancora un modello vero e proprio, è una possibilità, Filippo non ha più quella sede di potere che ha Stefano, riesce ad accettare che Aurora sia regina dei due mondi, qualcosa che per Stefano sarebbe stato inaccettabile e anche qui è il riflesso anche di una condizione che noi viviamo a livello sociale e politico, ma non sa ancora qual è il suo posto, cioè se voi vedete il film alla fine Filippo è un po' così, un po' tentenna e disorientato, non sa che cosa fare e questa secondo me è la sfida di oggi, cioè oggi l'uomo può sciogliere il proprio corpo di dolore maschile di cui si parla pochissimo, fare un lavoro prettamente maschile che secondo me ancora si fa pochissimo, ci sono pochissimi, ci sono tanti lavori su femminile, di lavori sul maschile non ce n'è praticamente nessuno e non un lavoro intellettuale, ma un lavoro pratico sul maschile. La cosa importante è che nel fare questo lavoro che l'uomo può fare solo se veramente si apre a una dimensione di grandissima sincerità con se stesso, noi donne dobbiamo cercare di non diventare carnefici, è una cosa che succede spesso, è molto probabile che una volta che la donna ha riconquistato le proprie ali, quindi ha riconquistato il proprio potere, pensi di non aver bisogno di nient'altro e quindi si accanesca sull'uomo vedendolo più debole di lei, in realtà questo non fa bene a nessuno, pensare di essere migliori e di essere più forti, pensare che gli uomini non abbiano alcuna possibilità non fa bene a nessuno e non è un discorso affettivo, ma è un discorso relazionale, perché poi alla fine ci troviamo tutti a relazionarci con uomini e donne, siccome lo vedo spesso questo, questa idea che gli uomini in realtà siano spacciati e non possono fare alcun tipo di cambiamento, in realtà credo che questo veramente sia anche una mancanza di rispetto nei confronti degli uomini, perché credo che per loro la sfida sia molto più importante, ricollegandomi sempre alle streghe di Castaneda e nel libro parlo di alcuni archetipi simili a quelli di Malefica, cioè Lily, Tinanna, Tomballà e parlo anche delle streghe di Castaneda, perché hanno delle caratteristiche molto simili a quelle di Malefica. La strega è strega per nascita, cioè la strega deve semplicemente ricordarsi di chi è, la nostra difficoltà oggi appunto spesso è quella di ricordarci semplicemente qual è il nostro potere, cioè di fare spazio e di eliminare tutto quello che ci porta a pensare in continuazione, a preoccuparci in continuazione, dico noi donne, a preoccuparci in continuazione durante la giornata, a fare piazza pulita e a recuperare delle conoscenze che noi abbiamo. La strega deve solo ricordarsi, perché la strega è per nascita, per natura strega. Lo stregone deve diventare stregone, ha tutto un altro processo, il suo processo di apprendimento invece è un processo, lui deve scalare per apprendere e in questo senso è molto più faticoso, perché si confronta costantemente con l'ignoto, cioè con una figura, un modello che ancora non esiste e in questo senso credo secondo me che l'uomo debba essere incoraggiato e accompagnato, anziché appunto costantemente vittima dell'idea che invece rimarrà così per sempre, che sia in un certo modo per natura. Questo è in qualche modo la conclusione del libro e mi premeva concludere così, perché non volevo che fosse semplicemente un'apologia dell'energia femminile, ma che fosse anche la possibilità di riconciliare le donne con le altre donne e riconciliare ovviamente donne e uomini, per fare in modo che il lavoro sia portato avanti insieme. Le fiabbe sono importanti, perché le fiabbe mettono insieme quello che Jung chiamava spirito del tempo e spirito del profondo e questa è una cosa importante del libro, perché? Perché c'è una parte delle fiabbe che è proprio essenziale in noi, cioè che rappresenta in qualche modo l'emersione dei nostri archetipi più profondi e in questo senso è immutabile ed è il motivo per cui si ritrovano fiabbe molto simili in posti completamente molto distanti nel mondo, perché ritroviamo certe fiabbe che rappresentano momenti di passaggio e di iniziazione all'interno delle varie comunità e questo è lo spirito del profondo. Poi c'è lo spirito del tempo, cioè il modo in cui le fiabbe vengono scritte e raccontate in un tempo specifico e ci sono dei mutamenti nelle fiabbe, cioè Malefi rappresenta anche la possibilità di riscrivere e rinarrare le storie, perché ci sono delle cose che sono delle parti immutabili, ma queste cose che non quadrano nelle fiabbe, che nel momento in cui noi siamo pronti possono essere espanse e finalmente raccontate, cioè ci sono delle fessure nelle fiabbe che a un certo punto si possono aprire grazie al nostro aumento di consapevolezza e aprendosi ci possono rivelare un'altra parte di verità e questa è la parte che ha a che fare invece con lo spirito del tempo, quindi una parte mutabile che ha a che fare con il momento che stiamo vivendo. In generale le fiabbe sono importanti perché ci raccontano e raccontarci è una cosa fondamentale, cioè raccontarci ci dà la possibilità di riconoscerci, di riconoscerci a livello individuale e per questo possono rappresentare dei momenti importanti nella nostra storia individuale e a livello collettivo e quindi all'inizio del libro parlo anche di questo, dell'importanza del raccontare, del rivelare la nostra storia, anche qui collegandoci alle costellazioni familiari è importante conoscere le nostre radici e quello che è successo prima di noi, perché solo in questo modo noi possiamo capire chi siamo adesso e continuare a proseguire la storia, come vi dicevo appunto il Nita è l'angelo che condivido con Linda Wolverton, è l'angelo che ha bisogno di andare oltre quello che già c'è e quindi di raccontare nuovi pezzi di storia, si possono raccontare nuovi pezzi di storia se si sa quali sono i pezzi precedenti e se si ha abbastanza libertà per mettere al mondo delle storie dei pezzi nuovi, perché se noi rimaniamo ancorati al passato o rimaniamo schiacciati dal presente, non sentiamo appunto la libertà di scrivere noi dei pezzi nuovi e questo è importante, in questo senso io credo appunto che questo film rappresenti un'operazione importante, anche appunto un'operazione di libertà che noi fino a poco tempo fa non ci saremmo sentiti in grado di fare, la possibilità di rinarrare delle storie così importanti, così centrali proprio per la formazione dell'uomo occidentale era una cosa totalmente inedita, c'erano pochissimi esempi, ma è un processo a cui ci siamo avvicinati piano piano e io credo che la bella addormentata nel bosco non possa rappresentare un unicum in questo senso, ma che possa rappresentare un punto di inizio per rinarrare le varie storie, ovviamente quando questo accade, non solo per divertimento e per rinarrare la nostra storia personale, quindi che sia, in qualche modo rappresenta un esempio a livello collettivo, perché è un film visto da milioni di persone, che può essere anche un invito a rinarrare la nostra storia, quindi a cercare di capire cosa c'è che non quadra, a rivelarlo anche con un'invenzione letteraria, perché poi tutto sommato anche le queste azioni sono un'invenzione letteraria, sono il tentativo di mettere sotto forma di linguaggio qualcosa che è un contenuto molto più profondo, quindi in qualche modo c'è anche molta creatività in questo genere di lavori, solo riuscendo a scoprire quali sono i pezzi che non quadrano nella storia, noi possiamo proseguire nella nostra storia personale.